Domani pomeriggio invece si alza il sipare sul Natale che non ti aspetti, la rete delle feste natalizie più estesa d'Italia coordinate dalle proloco di Pesero Urbino. Questa sera abbiamo in studio il presidente dell'UMPI, Damiano Bartocetti, che martedì ha presentato la manifestazione Montecitorio addirittura. Presidente, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Beh, con emozione, con voce anche tremante, insomma, il Natale che non ti aspetti, ecco, non ci aspettavamo di arrivare a Montecitorio. Quindi sempre più nazionale. Sempre più nazionale, questo lo testimonia il sigillo del Ministro e devo essere, ecco, molto sincero nel ringraziare il presidente Francesco Acquaroli, tutta la sua giunta e l'onorevole Baldelli che hanno creduto fin da subito sul nostro progetto e finalmente dopo anni che siamo dietro a farlo diventare un evento nazionale, veramente ci è diventato. Perché, ecco, anche dalle parole del Ministro, che era orgogliosa, si è sentito proprio dalle parole, di un progetto veramente nazionale e anche da numeri da capogiro. Ecco, entriamo appunto nel dettaglio di questi numeri. Quanti sono i borghi e le città coinvolte e quanti invece gli eventi organizzati? Sono 22 borghi, quindi 22 proloquo e 22 comuni che collaborano insieme, che siamo riusciti a mettere insieme a fare rete e sono circa 120 dal 26 di novembre al 6 di gennaio, che conclude con la festa nazionale della Befana di Urbagna. Quanti volontari? Parliamo circa di oltre 3 mila volontari che si impegnano con un ingresso di turisti che è calcolato circa sulle 260 mila presenze. Poi i numeri più precisi, i prossimi giorni li daremo, però puntiamo ad arrivare almeno a 300 mila presenze. Quindi un sold out che va da Senigallia fino a Cattoliche Rimini di alberghi tutti pieni. Quindi una ricaduta socio-economica del territorio veramente importante. E si parte domani, come diceva? Domani pomeriggio dal Pincio di Fano, sì, con molto orgoglio, insomma, avremo rappresentanti della Regione Marche, avremo rappresentanti del governo e avremo rappresentanti delle istituzioni militari e anche religiose che saranno lì a testimoniare l'importanza di questi eventi, ma soprattutto ci tengo a precisare l'importanza e il valore che i nostri presidenti delle Proloco, che i nostri volontari, i nostri direttivi mettono sempre compassione, orgoglio, umiltà sempre al primo posto. Diciamo che siamo riusciti a raggiungere un obiettivo importante grazie al lavoro dei volontari e questa sera sono qui, ma dico siamo qui, perché è qui con me come se ci fossero tutti i presidenti delle Proloco della nostra provincia. Dico tutti, perché non solo quelli della Rete del Natale, perché avrà una ricaduta economica su tutto il territorio della nostra provincia, ma della nostra bellissima regione. Economica ma anche sociale, pensiamo ai ragazzi che finalmente possono avere qualche momento di svago. Ma questa è la cosa ancora secondo me più importante rispetto all'economia, cioè far capire ai ragazzi, ai ragazzi che tantissimi giovani che aiutano nelle nostre Proloco, al posto di stare davanti alla Playstation, al posto di stare davanti al telefono, li vediamo aiutare, li vediamo impegnarsi nei nostri eventi. Questo è un grande orgoglio e soprattutto, Simona, vorrei dire questo a tutti quelli che ci ascoltano. Noi stiamo facendo un lavoro di collaborazione istituzionale sul territorio, perché come dico sempre, le Proloco non sono politiche, ma sono un'associazione che si impegnano sul territorio e parlano con le istituzioni, in quel momento chiunque esso sia. Quindi siamo una cosa trasversale e l'ho voluto precisare perché i volontari ci tengono tantissimo. I volontari sono di qualsiasi colorazione politica, ma ci impegniamo per il territorio e vorrei questo che sia carpito da tutta la politica in generale di qualsiasi colore. E avete organizzato anche iniziativa all'insegna della solidarietà. Sì, abbiamo puntato tantissimo quest'anno, la nostra provincia è stata colpita da un duro alluvione, quindi noi puntiamo tantissimo sui nostri mercatini, all'enogastronomia e ai prodotti del nostro territorio. È fondamentale crederci, è fondamentale perché i nostri volontari credono veramente tanto al nostro territorio e soprattutto al nostro entroterra. Noi dobbiamo essere forti, non solo con le parole, ma dobbiamo aiutare veramente il nostro entroterra a rinascere e a rivivere perché il nostro entroterra è fondamentale per il nostro turismo enogastronomico. Per domani a che ora è l'appuntamento? Domani vi aspettiamo tutti alle 15.30, al Pincio di Fano, assieme al Sindaco di Fano, le autorità, la Proloco di Fano, a tutte le Proloco e vi aspettiamo perché è veramente un momento incoronale per lanciare tutti gli eventi. E' la rete del Natale che non ti aspetti che sta riscuotendo veramente un gran successo anche a livello mediatico su tutto il territorio nazionale. Chiudo col dire che abbiamo anche un gruppo di americani che verranno a visitare i nostri mercatini. Bene, grazie mille al Presidente dell'UMPI di Pesaro Urbino, Damiano Bartocetti. Grazie a lei.